Fa strano, fa strano rimettersi di nuovo davanti a una telecamera Anche se è un cellulare, vabbè Comunque, è passato almeno 3-4 mesi E voglio ritornare a fare un video, vediamo se c'è qualcuno Principalmente perché voglio raccontare cosa è successo L'ultimo video risale a 3 mesi fa, più o meno, 4 non mi ricordo Vabbè, inizio giugno, fine maggio Poi ci sono stati alcuni video che sono stati cancellati Non vi racconto il perché, non è stata colpa mia Sacco di cose, poi non c'era più partecipazione E mi seccavo fare un altro video dicendo Basta, voglio chiudere E poi tutti ritornavano e dicevano No, non chiude perché è una minchia Perché dopo poi due video non c'era più nessuno di nuovo E mi seccavo questa cosa Dunque non ho fatto più video Poi ovviamente l'estate, uscivo sempre Non è che per uscivo sempre Poi ritornavo ovviamente Avevo un'ora, due ore di tempo di stare a casa Però mi sdraiavo e guardavo, sentivo musica Cioè, proprio l'estate mi ha tolto i pensieri di YouTube Cioè non pensavo più a YouTube Mi cercavo fare video Dunque, mi sono scordato del mio canale Dunque, voglio ritornare Perché l'altro giorno Un mese fa più o meno O due settimane fa Mi aveva contattato un mio amico Che lo cito ovviamente Andrex Che pure lui ora sta raggiungendo i 2000 iscritti Gli auguro ovviamente Una grandissima avventura Perché l'abbiamo iniziata insieme Comunque E mi aveva detto perché l'avevo abbandonato Ovviamente vi avevo già elencato il perché E ora voglio ritornare No, mi è ritornata proprio la passione al 100% Però un pochino Mi è mancato fare quei video Ovviamente io penso di portare i video solo su FIFA 17 Per ora Perché quello ovviamente ci gioco la Playstation Solo quando uscirà FIFA Perché oltre a YouTube ho lasciato la Playstation E da tre mesi che non la tocco Dunque farei video su FIFA Se volete posso fare un video a settimana Dipende Perché ora entro nel terzo anno E' proprio per questo che volevo abbandonare anche Perché la scuola si fa più dura Perché sono anche un professionale Dunque faccio laboratorio Eccetera eccetera Vediamo come va Se ritornano Se c'è una Ci sarà molta partecipazione In questo video sotto nei commenti Spero in un grande ritorno Se no questo è solo un video inutile Lo possiamo anche definire Di definire di chiusura Dipende anche da voi Perché io Almeno un video a settimana Lo posso fare Ditemi da voi Ditemi voi Io continuerò ovviamente Perché ovviamente Quante volte sto dicendo ovviamente Vabbè Non mi è ritornato La passione al 100% Tipo c'è l'80% Stiamo andando comunque A scaletta Se voi commentate Vedo quella partecipazione Quelle emozioni Che mi avete dato In passato Può essere Che mi ritorna Al 100% Questa passione E continuo a fare video Se no poi è una seccatura Che faccio video inutilmente Se poi non guarda nessuno Dunque ragazzi Lasciate un bel pollicione in su Commentate Può essere che non ho detto tutto Quello che volevo dire Però quando mi metto qua Alcune cose che mi preparo Me le scordo Dunque Lasciate un commento Dite la vostra Commentate quello che volete Scrivete Hashtag Vaffanculo Comunque Lasciate un bel pollicione in su Voglio Un grandissimo ritorno Di questo canale Perché il mio sogno È arrivare Ai 1000 iscritti E non Lo lascerò sfumare Questo sogno Dunque ragazzi Speriamo in un altro video Se no Addio Bella